Io tutte le mattine vi lieto, la sveglia spero, con le notizie che leggo sui giornali locali di Milano ma insomma non è che li scrivo io, anzi vado a mani bassa a rubare il lavoro che fanno altre persone altre bravissime persone come ad esempio la nostra ospite di oggi che è Lucia Landoni Buongiorno Lucia Buongiorno a voi Collaboratrice giornalista di Repubblica Lucia, grazie perché sai quante mattine riesco a svoltare grazie ai tuoi articoli Grazie a te, grazie a te Il nostro lavoro ha senso se c'è chi lo legge e chi lo diffonde quindi grazie a te Per fortuna che ci siete perché insomma sono tanti gli articoli spesso appunto è un nome, quello di Lucia, che sentite spesso uscire dalla mia voce quando leggo gli articoli e oggi invece ho voluto finalmente averla qui perché insomma io sono molto attratto e curioso su quello che significa raccontare Milano, su cosa significa la redazione locale che poi ormai sappiamo, poi sono locale, non locale, ormai i confini sono veramente labili in tutto Molto labili, assolutamente sì anche tra i vari mezzi, tra il giornale e le piattaforme social che riprendono i nostri contenuti per questo ti dicevo che comunque è un bene che i nostri contenuti girino perché noi andiamo a cercare le storie, andiamo a raccontare le storie ma poi le storie hanno senso se c'è qualcuno che ci fa la cassa di risonanza sostanzialmente se c'è qualcuno che le ascolta noi senza i lettori, senza gli ascoltatori, senza chi va sui social a leggere le nostre notizie sostanzialmente non vivremmo, nel senso che appunto il nostro ruolo è quello di dare voce a chi grazie a noi riesce a raggiungere una platea più ampia Insomma, le notizie che scrivete sono sempre, praticamente di qualunque cosa cade una penna a Milano, i vostri giornali la sanno e lo raccontano Noi tante anche storie, tante storie, quali sono le storie più interessanti che hai finora raccontato o la notizia che invece l'ha colpito di più nel doverle raccontare? Le storie sono veramente tante, forse le più interessanti, che non è una storia sola ma una serie di storie, sono quelle, perché anni fa ci eravamo messi in mente di raccontare come Repubblica Milano il cambiamento di Milano ma andando a fare un lavoro un po' particolare poi abbiamo raccolto questo ciclo di articoli e alcuni colleghi, anche in un libro che è là dove c'era ora c'è per cui raccontare il cambiamento di Milano, per esempio, mi ricordo, mi aveva colpito moltissimo andare in via Madonnina, per cui pieno centro, Brera zona adesso assolutamente lussuosa, anche inarrivabile se entriamo nel tema del caro affitti Beh lì allora inarrivabili sono tante le zone inarrivabili Assolutamente sì, ma questa è una tra le più inarrivabili Ci rimane solo Baggio, lo dico sempre Ecco, ma anche lì sai che si dipende anche Baggio La gentrificazione arriva ovunque Vende ampiamente anche Baggio E lì però nel momento in cui vai a parlare con le persone che vivono in via Madonnina da appunto da una vita, che sono nate lì e che se la ricordano com'era Ti raccontano che ci fu un tempo ormai remoto ma in realtà non così tanto perché c'è chi se lo ricorda in cui via Madonnina era via di bordelli e la via dove soprattutto c'era il deposito in cui gli spazzini di Milano arrivavano a depositare le loro attrezzature Quindi via Madonnina come Figino Assolutamente sì, nel cuore di Brera c'era anche una parte di Milano che lì non avremmo mai immaginato Assolutamente no Com'è conoscere appunto e interagire con queste persone che ti raccontano una Milano che ovviamente noi non possiamo neanche immaginare? Ma guarda, secondo me le persone vogliono comunque essere ascoltate nel momento in cui riesci a superare la loro diffidenza perché capita, soprattutto nel momento in cui dici di essere un giornalista oddio, la nostra categoria non sempre gode di buona fama Per fortuna esistono gli assicuratori che sono più odiati di noi Forse sì, forse sì Un saluto a tutti gli assicuratori in ascolto Assolutamente, anche perché ho anche cari amici assicuratori per cui non vorremmo mai assolutamente rovinare i rapporti diplomatici ma sicuramente ce la giochiamo con questa categoria Una volta che però appunto ti dicevo superi questa diffidenza allora le persone hanno voglia di raccontare di essere ascoltate, di essere viste ma soprattutto ti dirò di raccontare quella che è la loro verità nel senso che forse il motivo per cui non vediamo sempre ben visti è che c'è l'idea che il giornalista sia troppo scollato dalla realtà sia troppo lontano, che dia un'interpretazione sua che non racconti quello che davvero succede in realtà se poi parli con le persone mi è capitato più di una volta che mi facessero uno dei complimenti credo più belli che si possa ricevere è esattamente quello che volevo dire hai raccolto esattamente che dovrebbe essere una cosa di semplice buonsenso scontata, nel senso noi appunto dobbiamo raccogliere le testimonianze di altri piuttosto che le voci di altri e raccontarle, riportarle il più fedelmente possibile è come quando dice il fidanzato tu sì che mi capisci che dovrebbe essere scontato ma non è così scontato e quindi ogni tanto arriva questo complimento dell'esattamente quello che volevo dire hai capito esattamente quello che volevo dire per cui vuol dire che abbiamo vinto ce l'abbiamo fatto sono proprio le stellette che ti si mettono sulle mostrine assolutamente sì bene, allora Lucia senti, io poi voglio sapere anche cosa ne pensi proprio di Milano cioè ormai tu l'hai girata in lungo e largo la conosci la vivi ormai da anni quanti anni hai che scrivi di Milano ormai? su Repubblica Milano sono 15 anni quest'anno insomma, diciamo che è una bella un bel occhio sulla città un osservatorio come si dice in queste case privilegiato e allora rimani qui con noi adesso ci ascoltiamo una canzone poi torniamo qui appunto insieme a Lucia Landoni se volete 331-7853-555 il nostro numero di Whatsapp grazie anche ad Alberto che ci manda i suoi auguri per la giornata e continuiamo appunto con un po' di musica poi torniamo qui ancora a parlare di Milano di notizie e anche poi le storie buffe che magari si trovano e si incontrano in questa pazza città che è Milano Tom Walker Head Underwater alle 8 e 17 minuti Cristal Radio Good Morning Milano qui insieme a Lucia Landoni collaboratrice di Repubblica giornalista che ormai appunto diciamo da 15 anni racconti la città di Milano e allora la domanda sorge spontanea come diceva qualcuno molto prima di me cos'è Milano? Milano è una metropoli ti direi perché è un termine che spesso quando cerco il famoso sinonimo perché Milano l'ho già usato città è troppo riduttivo capoluogo lombardo sembra troppo burocratico è una metropoli direi che è una delle etichette più abusate forse che è l'unica vera metropoli italiana e in realtà ti direi prima ancora è una realtà multiforme nel senso che nel corso degli anni ho raccontato ci stavo pensando proprio adesso una serie di sfaccettature di Milano che variano dalla Milano che accoglie per cui dalle reti di accoglienza ma pensavo anche al periodo orribile del covid per cui quando ci si erano inventati le ceste per lasciare qualche cosa a chi potesse averne bisogno a chi anche durante il periodo del covid viveva in strada per cui chi ha bisogno prenda chi invece ha la possibilità di al muro della gentilezza per esempio al tempio del futuro perduto di cui rilanciamo gli appelli ogni tanto quando c'è bisogno che il muro venga rimpinguato che si portino cose e invece quando ci sono i ringraziamenti a Milano che continua ad alimentarlo questo muro della gentilezza e alla Milano che invece però ha problemi abbiamo scritto spesso dei taxi che non ci sono abbiamo scritto spesso del fatto che anche banalmente i pezzi di servizio per cui lo sciopero di ATM piuttosto che la persona che lamenta il disservizio è allora andare a cercare di capire a cercare anche di fare un po' sostanzialmente da mediatori un po' da da voci appunto delle persone ti dicevo prima fare da voci alle persone che grazie a noi riescono ad avere una cassa di risonanza maggiore per esempio mi è capitato di recente di sentire le persone che durante uno dei purtroppo ormai frequenti alluvioni che hanno colpito Milano avevano parcheggiato l'auto nel parcheggio ATM di Romolo per cui sono trovati le auto sott'acqua sostanzialmente per cui cercare anche di aiutarli a farsi sentire e far arrivare le loro esigenze ad ATM che poi va a loro riconosciuto è stata pronta ad ascoltarli anche grazie al nostro intervento però appunto lì mi sono sentita utile a tutti gli effetti perché ho parlato con queste persone le ho sentite veramente in difficoltà quindi varie sfaccettature alla Milano che ha oggettivamente magari dei problemi stiamo rilanciando di recente abbiamo rilanciato anche gli appelli di figure note e meno note per quanto riguarda la tematica della sicurezza per esempio per cui e anche lì però sta a noi cercare un equilibrio tra la denuncia legittima della persona che è stata protagonista a suo malgrado è stata vittima di un episodio disgraziato oppure che si è sentita a disagio per un qualche motivo anche lì appunto fare da mediatori tra questa realtà e quella invece di chi ti dice Milano in realtà non è così male come la si vuole raccontare Milano non è Gotham City Milano in realtà è semplicemente una grande città quindi con tutti i pregi e i difetti delle grandi città forse amplificati dal fatto che Milano per certi versi è sostanzialmente molto simile a New York i Grattaceli e dall'altro lato c'è anche ancora la Milano dei Cortili la Milano che rivendica le sue radici più popolari il nostro caro amico Simone Lunghi dice siamo la più piccola metropoli al mondo assolutamente una delle storie più belle infatti che abbiamo seguito dall'inizio possiamo dire è proprio quella di Simone quindi con l'angelo dei navigli le bici raccolte eccetera eccetera quindi appunto raccontare anche queste belle storie che sono totalmente in antitesi cioè ci sono tante persone che si prendono cura di Milano ecco secondo me la grande fortuna di Milano è questa ha tante persone che se ne prendono cura ma nel senso migliore del termine cioè che non lo fanno solo per il loro piccolo angolo di città ma che hanno a cuore l'idea di Milano a tutto tondo secondo me è questo miei carissimi milanesi alla fine ne uscite bene vedete alla fine ne uscite meglio della vostra città quasi l'esperienza che ho avuto con i milanesi è sempre stata molto 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 positiva molto positiva e mi viene in mente un'altra persona che so che conoscete bene Angelo Mazzone di Milano Segreta che spesso era su quella sedia qualche settimana fa ecco che spesso sentiamo e lui ultimamente sta facendo una campagna però da sempre in realtà in questi giorni ancora più del solito perché Milano Segreta per esempio vuole raccontare la Milano Bella la Milano che magari su cui magari non ci si sofferma perché appunto fa più notizia e anche qui ci prendiamo la nostra fetta di colpe perché fa più notizia magari il tema sicurezza l'emergenza sicurezza chiaramente fa il titolo la cosa che mi sembra di aver capito è che in realtà questa Milano che tu racconti è tutto il contrario di tutto nel senso che la stessa identica città può essere piuma può essere ferro come diceva esatto e come fanno a convivere poi insieme queste due realtà perché in realtà poi alla fine in qualche maniera riescono non so come oppure no è una alchimia ma in realtà credo di sì perché tutto sommato Milano ha sempre mantenuto il suo ruolo possiamo dire di leadership poi da Expo in poi abbiamo raccontato di una Milano che è diventata adesso improvvisamente il mondo si è accorto che Milano è anche bella per cui Milano può anche essere attrattiva a livello turistico e quindi da questo punto di vista Milano appunto è riuscita a superare è riuscita a superare bene sostanzialmente è riuscita a uscire anche dal tunnel del covid è riuscita a darsi una mano quindi secondo me è un equilibrio delicato anche io non ti saprei dire come ma funziona però c'è questo equilibrio rimane con tanti disequilibri ma anche con tanti equilibri assolutamente sì ebbè insomma questa forse è la fortuna di avere voi appunto carissimi milanesi che ci seguite che sapete cosa fare che come dice appunto Lucia vi prendete cura e tanta cura di questa città che a volte sembra un po' malandata a volte sembra invece tanto bella e dorata insomma è veramente come diciamo tutto è il contrario di tutto ma grazie ai milanese insomma rimane in piedi e anzi si evolve e cambia sempre continuo cambiamento continuo cambiamento I love the tiger gli occhi della tigre quelli con cui Lucia Landoni guarda la città non lo so Lucia usi gli occhi della tigre cerchiamo cerchiamo abbiamo nominato alcuni nostri amici prima no? appunto Simone Lunghi Angelo Mazzone ma invece ti chiedo dimmi qualcuno che invece non conosco che dovrei invece conoscere ma una delle prime persone che mi vengono in mente perché ne abbiamo scritto spesso è Greg il pittore dei navichi Gregorio Mancino lui per esempio si fa carico a livello proprio i milanesi che si prendono cura di pulire il ponte Aldamerini ogni volta che viene sfregiato con scritte graffichi vari eccetera per cui torna al tema della cura assolutamente torna al tema di voi milanesi che vi mette cura in più oltretutto con una verba artistica a questo punto di Greg beh allora lo andrò sicuramente a seguire come voi dovete invece continuare a seguirci in diretta perché continuiamo a raccontare Milano continuiamo a raccontare Milano fino alle nove qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano ma soprattutto con Lucia Landoni qui con noi adesso un po' di musica e poi torniamo subito qua in diretta Diana Ross Upside Down Diana Ross questo era il Crystal History ma andiamo avanti con nostra Lucia Landoni da Repubblica che viene qui appunto a raccontare un po' la città e soprattutto adesso mentre stiamo chiacchierando così andiamo un po' a vedere Lucia di cosa hai parlato negli ultimi giorni ieri ci hai messo tutti in confusione perché sappilo perché allora ieri tu hai pubblicato questo articolo hai scritto questo articolo il Moscardino abita a Milano la scoperta dei ricercatori prima segnalazione nella città del nord Italia importante alla biodiversità e voi pensavate al polipetto noi quello noi abbiamo subito subito ci hanno detto ma da quando qua vivono i polipetti al parco nord in realtà anch'io in realtà anch'io invece i ricercatori ci hanno spiegato che il Moscardino è questo roditore molto simile al Ghiro che è un fondamentale guardiano della biodiversità e quindi abbiamo appreso questa cosa per quello che ti dicevo quindi quando faccio la pasta con un Moscardino devo stare attento adesso a che il Moscardino mi mettono dentro esatto non metterci roditore non metterci roditore perché è fondamentale pare che sia il primo avvistamento in un'area urbana del nord Italia così importante e quindi per quello è fondamentale perché è sentinella della biodiversità perché pare che lui vive in un habitat complesso per cui il fatto che il Moscardino stia bene lì vuol dire che tutto sommato non è così male esatto complessa ma tutto sommato non così male però non così male infatti esatto per cui la Milano la domanda la domanda che si fa al Milanese è ma ci mancava anche il Moscardino c'è un altro roditore c'è un altro roditore c'erano già i topi gli scogliattoli le nutrie sui nostri social dove di solito i lettori tendono ad essere anche sui social non essendoci filtro il lettore tendenzialmente tende a dare sia il meglio che per certi versi ha un po' il peggio di sé ma non solo il nostro lettore in generale l'essere umano esatto in realtà sul Moscardino abbiamo raccolto molti commenti del ma che carino ma sei bellissimo quindi questa cosa del Moscardino è piaciuta molto dire al Moscardino che è bello e carino vabbè poi ne parliamo capiamo gli standard estetici che hanno la gente che vi segue è piaciuto è un'altra cosa che i milanesi sono molto attenti alla fauna alla fauna locale perché mi è capitato di scrivere di appelli di quartieri interi sul fatto che la colonia felina lì andasse tutelata per cui abbiamo anche qui ci siamo fatti da portavoce presso il comune perché loro chiedevano che la colonia fosse messa in sicurezza una colonia felina del quartiere Adriano nello specifico per cui tendenzialmente la fauna i milanesi hanno preso la lettera la giungla metropolitana quindi la fauna è fondamentale una giungla abbastanza di recente ho scritto anche un pezzo su quanto i milanesi amino i loro cani e i gatti per cui quanti ce ne sono e abbiamo sentito adesso questa qui me la devi dire adesso ti ricordi allora il dato esatto più o meno siamo nell'ordine delle decine di migliaia abbiamo decine di migliaia tra cani e gatti e soprattutto molto molto coccolati infatti mi dicevano da legambiente che il problema qui non è tanto più degli abbandoni che è più ancora purtroppo una piaga che è al sud al centro Italia ancora molto sentita a Milano città in realtà l'abbandono è meno sentito per fortuna è un fenomeno in riduzione ma in realtà li viziamo troppo cioè li soffochiamo come quei figli facciamo esatto li soffochiamo nel senso che magari non gli diamo più da mangiare in maniera corretta nel senso che li sovralimentiamo gli diamo cose che assolutamente li alimentiamo come noi e quindi sostanzialmente con alimenti che per loro non sono assolutamente indicati il cane olistico vegano assolutamente cose di questo tipo sì piuttosto che il cane che mangia lasagne quindi queste cose per cui sostanzialmente li soffochiamo ignoriamo la loro etologia per quello che a noi piace e sembra carino ma prima parlavi di chi commenta di chi parla segui i vostri articoli così come risponde appunto la città all'informazione locale superato lo scoglio famoso del oddio c'è un giornalista davanti a me esatto ma anche quando leggo una notizia invece superato quello interagiscono molto in realtà interagiscono molto soprattutto appunto da quando dicevo informazione integrata per cui ci sono anche le piattaforme social interagiscono molto per cui fanno sentire la loro voce tendono sempre a darti a darti un loro un loro parere spesso anche molto ruvido anche molto brusco del tipo ma non sapete fare il vostro mestiere c'è questa c'è questa c'è questa componente ecco anzi una cosa che noi vorremmo sempre poter dire al lettore tendenzialmente nel momento in cui un articolo va online nel momento in cui un articolo finisce sulle pagine del giornale è stato lavorato pensato c'è dietro un impegno da parte a volte non solo del singolo giornalista anzi quasi mai perché poi dopo c'è il desk che lo passa se ne occupa lo impagina lo titola per cui tendenzialmente c'è un lavoro dietro i titoli non li scegliete voi più c'è il titolista diciamo più o meno anche in online i titoli sostanzialmente si se ne occupa il desk noi diamo un suggerimento ma c'è il desk che poi se ne occupa e quindi quando vi diciamo non sempre il titolo lo sceglie il giornalista che scrive l'articolo dipende da questo sostanzialmente che poi dopo ci si confronta con il desk chiaramente ci si confronta in tutto questo girare e peregrinare per la città gli incontri diciamo quello più divertente più buffo più strano che hai fatto qual è stato in maggio ci sia un bel catalogo ce ne sono esatto ampio ti direi Emanuele Mantovani che è un signore un genialoide nel senso che gli è venuta questa idea di trasformare le vie di Milano in calamite e quindi lui va lui gira per Milano con la sua bici va a copiarsi le targhe con i nomi delle varie vie di Milano ma le ricoppia con una meticolosità certosina proprio dal carattere che è esattamente quello della via al numerino in fondo alla targa per cui che è la catalogazione che il comune e le trasforma in calamite ha cominciato dalle vie e adesso è passato anche alle fermate della metropolitana per cui ci sono delle calamite con ogni fermata della metropolitana ha una sua calamite e com'è che non c'è un colpo di redazione è pazzesco questo signore è stato nel suo laboratorio e ha praticamente sostanzialmente una lettera d'amore a Milano quel laboratorio perché lui lavora lui prepara mi ricordo ha preparato sostanzialmente una sai le palle di neve quelle natalizie ma con dentro il tram ci sono i poster del castello sforzesco e poi appunto lui ha questa è diventato un catalogatore ma proprio meticoloso ai limiti proprio del maniacale delle vie di Milano delle targhe delle vie per cui tu puoi acquistare dal suo sito la tua calamita con il nome della tua via preferita della via in cui lavori della via in cui lavori ma te la fa lui le fa anche su commissione va a vedersi tu gli commissioni la tua via e lui va a vederla viene qua all'angolo se la guarda no bellissimo come si chiama hai detto? Emanuele Mantovani questo dovete segnarvelo e seguirlo le vie di Milano diventano calamite le vie di Milano diventano calamite beh qualcosa di bellissimo o comunque fatevi un giro su Repubblica trovate l'articolo esatto di Lucia un po' fa ma lo trovate approfondite si parla tanto su giornali di tutto praticamente c'è qualcosa però che secondo te bisognerebbe di cui bisognerebbe parlare di più di cui bisognerebbe parlare di più ma forse ti dico ma questa è una deformazione mia nel senso che io nel senso che io amo molto le belle storie le storie agli etovine le storie qualcosa di cui tu parleresti di più a prescindere proprio nel senso ti dico le belle storie le storie quelle positive quelle da cui non esce quelle da cui non esce una Milano Gotham ma anche una Lombardia perché come ti dicevo lavorando noi come redazione Milano da Milano dobbiamo raccontare non solo Milano ma la nostra sfida è quella di raccontare di fatto tutta la Lombardia per cui da qui c'è delle grosse fortune anche del mio lavoro nel senso che ho la possibilità anche di spaziare per esempio una storia bellissima che io ho avuto la fortuna di seguire dall'inizio è quella di Pizza Out dei ragazzi dei pizzaioli autistici Nico Acampora per esempio mi chiedevi l'incontro più strano mi è venuto in mente Emanuele ma l'incontro forse più interessante che mi è più rimasto che mi ha più colpito è stato proprio quello con Nico Acampora di Pizza Out per cui e anche qui poi certo bisogna evitare poi diventare monotematici infatti ogni tanto in redazione mi dicono attenzione non facciamo la rubrica su Pizza Out non facciamo la rubrica su quello che fa Greg sul Naviglio per esempio che si prende cura che dipinge i suoi cuori caratteristici colorati con il ricciolino in fondo e li dipinge ovunque tendenzialmente porta la sua arte negli ospedali per cui bisogna stare attenti chiaramente a non sovraccaricare neanche il giornale e lì però c'è un certo punto una certa affezione a questi personaggi assolutamente sì ci sono persone di cui io proprio soprattutto come per esempio con Nico Acampora dicevo siamo diventati amici per cui è proprio bello mantenere e si staura anche un rapporto di fiducia nel senso che loro sanno quello che ti dicevo prima tu racconti esattamente quello che volevo dire e questo questo è bello nel senso quando una persona ti dice siete diventati il mio giornale di riferimento perché raccontate esattamente quello che volevo dire perché mi ci sento rappresentato è una grossa vittoria per noi e beh grande vittoria Lucia allora va bene andiamo con un po' di musica poi torniamo qui perché siamo quasi seduti finali ma ancora qualche curiosità la voglio sapere da Lucia e da questa stramba città che è Milano che lei deve da una parte e dall'altra vuole raccontare tutti i giorni The Weekend con Dancing in the Flames 850 minuti quasi in conclusione qui con Lucia Landoni e anche con i vostri Whatsapp al 33178 53555 leggo quello che è arrivato adesso che dice anche da Fuerteventura si ascolta Crystal Radio un saluto da un posto al sole da Marinella Enello beh un saluto a voi e poi chiede PS che tempo c'è a Milano perché nel caso non torniamo oggi forse state meglio che state a Fuerteventura rimanete lì ancora per qualche giorno ma il tempo altro tema Lucia altro tema ma mi chiedevi pezzi per esempio storie strane per esempio anni fa mi era capitato e mi è rimasto impresso perché è veramente una cosa strana avevamo scritto un pezzo perché a Milano pioveva tutti i giorni alle 18 praticamente c'era una periodicità incredibile tutti i giorni pioveva di ciò per cui chiama il meteorologo e cerca di capire il perché come la perturbazione e quindi anche qua abbiamo il nostro osservatorio meteorologico Milano Duomo a fondazione che sono sostanzialmente le nostre bussole i nostri punti di riferimento quando dobbiamo scrivere di meteo quando dobbiamo scrivere di clima che cambia e purtroppo ci capita abbastanza spesso perché arrivano queste bombe d'acqua anche questo dicevo continuo cambiamento non tutti i cambiamenti purtroppo sono positivi poi anche qua mi è capitato per uno dei nostri speciali green and blue su repubblica di sentire un docente della statale per chiedergli questi cambiamenti climatici che sono già qui che si manifestano anche qui nel locale effettivamente sono così irreversibili oppure che cosa possiamo fare in questo senso il nostro lavoro può fare la differenza nel senso che al di là del raccontare la bomba d'acqua il clima che sta cambiando per amor del cielo lamentiamoci del fatto che il sottopasso si allaghi ma cerchiamo anche di spiegare alla gente cosa possiamo fare per tentare quantomeno di rallentare questa catastro sostanzialmente lucia siamo appunto diciamo quasi in chiusura su cosa stai lavorando cioè adesso spenti i microfili andrai a lavorare su che cosa oggi vi daremo consigli indicazioni su cosa fare ad halloween a milano e in lombardia l'idea assolutamente sì ci saranno cose se possiamo spoilerare qualcosa ne avremo veramente per tutti i gusti c'è addirittura l'halloween per i cani quest'anno ci sono addirittura feste ad hoc per i quattro zamm posso dire se non esiste nel mondo a milano esiste però assolutamente sì è qualcosa che milano arriva e pioniera spesso e volentieri in cose che assolutamente in cui potremmo anche farne a meno posso dirlo io lo dico io a volte siamo pionieri anche in cose in cui potremmo benissimo farne a meno eppure siamo pionieri anche lì eppure anche lì testiamo poi se non funziona il dramma è che funziona a volte quello che ti chiedi come sia possibile in qualsiasi altro luogo del mondo non funzionerebbe se Milano lancia il trend allora poi dopo funziona infatti funziona se Milano fa la prepista allora poi funziona una pubblicità di qualche anno fa diceva c'è una app per tutto a Milano c'è spazio per tutto assolutamente sì anche per Milano al contrario ecco un'altra cosa di cui molto curiosa di cui mi sono occupata è il blog Onalim ah Isabella ah Isabella sì 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 a Milano c'è tutto addirittura anche c'è Milano al contrario e chi ha il coraggio di criticarla Milano perché io mi ricordo quando diceva facciamo la week senza week perché sostanzialmente abbiamo troppe week per cui lanciamo ditemi la week più assurda che viene in mente così a questo punto la inventiamo ed era la no week potrebbe essere potrebbe essere quella lì ti pensi week che durano tre giorni a volte mi fa ridere questa cosa la week che durano tre giorni quattro giorni hanno un calendario strano un calendario compresso Lucia grazie mille di essere qui con lei questa mattina buon lavoro buona ricerca per le ultime festività di Halloween grazie davvero almeno lo festeggerai tu oppure a quel punto poi sei satura eh può essere infatti sto decidendo cosa fare mi sto decidendo fate voi io però non ci vado io mi metto lì quello che c'è poi io deciderò l'ultimo benissimo va bene grazie Lucia davvero grazie a voi seguitela sui social seguitela soprattutto su Repubblica appunto tutti i giorni praticamente possiamo leggere il tuo lavoro grazie mille davvero e adesso non ci resta che dire la parola fatidica delle 8.55 cioè sigla grazie a tutti grazie a tutti